Ecco qui, cinesi, in che senso? Non cinesi abitanti della Cina, ma cinesi come cinetica, ovvero il movimento che è alla base di tutto, del movimento che ci anima, del movimento dell'avvento e del movimento di queste masse che voi vedete che corrono a incastrarsi a fondersi e chissà a formare qualsiasi cosa. Voi sapete che chi mi segue saprà che io ho una visione particolare della vita, cerco di entrare all'interno della materia oltre che spaziare nell'universo. Noi sappiamo che per esempio i diamanti derivano dalla pressione enorme che sta su di loro e del carbone che viene compresso con delle migliaia, migliaia, milioni o se non miliardi di tonnellate, si può trasformare in diamante. Ed ecco che lì mi affascina la materia che si unisce a formare qualche altra cosa. Immaginate il misero carbone che ci riscalda, poi può diventare un diamante e questo è fondamentale nella mia ricerca della verità, nella mia filosofia pittorica, perché dà proprio il senso di quello che è la ricchezza della vita data dal movimento che è alla base di esso.